ci sono tornati a go go qua ricordate gli 80 ricordiamoci gli 80 all'ora minchia stavo andando dritto ed ecco qui siamo sulla tremola la vecchia strada che dovrebbe congiungersi al passo del san gottardo attrae molto in inganno grattatina di naso mamma che bello bellissimo le parole non possono descrivere quello che sto vedendo perché è veramente diverso da tutto quello che ho mai visto ci torniamo per una foto ciao ragazzi siamo qua sulla strada della tremola come potete vedere i san pietrini adesso effettivamente questa strada stupenda stupenda perché il panorama che il panorama che regala questa strada non lo regala nessuno è veramente incantevole ed è senza parole ovviamente questa non è una strada per gli amanti dell'asfalto questa è una strada più per assaporare quello che è il gusto di fare una strada panoramica ma proprio la bellezza di concedersi del tempo e di fare una strada così ciao ragazzi siamo qua sul passo del san gottardo siamo arrivati siamo fermati per un pranzo al sacco che godono di questa vista nel frattempo si stanno rifocillando e discutendo del più del meno e qui abbiamo tutto il nostro panorama che è indescrivibile non potrei usare parole adeguate per descrivere la bellezza di questo posto veramente top ragazzi io lo consiglio lo consiglio vivamente poi ragazzi dovete fare la strada della tremola che è una strada veramente molto molto bella panoramica da paura bisogna stare molto attenti perché i san pietrini insomma sono un pochino pericolosi però insomma si va piano su quella strada abbiamo mangiato un panino e via si riparte sosta di una mezz'oretta e pronti per partire per andare a fare i nuovi passi eh si qua qua ce l'ho già venuto quando sono andato a fare un giro in moto nella foresta nera a ritorno siamo usciti dell'autostrada e abbiamo fatto questa strada wow ragazzi eccoci eccoci qui ragazzi siamo arrivati al system pass fammi fare uno pass indietro così vediamo il cartello perfetto si vede niente questa è la galleria da cui siamo appena usciti e niente come avete potuto vedere dalle immagini le strade sono veramente disegnate molto belle il panorama come ho detto è iscrivibile e finire qui è secondo me è proprio d'obbligo cioè bisogna proprio fare un salto in questi posti ovviamente prestano molta attenzione ai limiti di velocità che ahimè è facile distrarsi un attimo e andarci appena oltre ci sono degli autovelox che sono praticamente invisibili cioè non si notano anche perché qui rispetto all'italia non hanno l'obbligo di avvisare se c'è un autovelox però vabbè dai è importante guardare bene i cartelli e rispettare il codice della strada prossima tappa la scopriremo più tardi a Grazie a tutti Vanno e tornano Porco dio Trova diga Ecco ragazzi siamo arrivati Su una diga Del Grimsel Sulla strada Del Grimsel Pass Non so come si chiama questa diga Ma mi sono voluto fermare Perché il panorama Merita Ed è un bacino a cascata Mi sa perché Lì c'è un'altra diga Lì ne stanno costruendo un altro pezzo In fondo E poi C'è questa qui E questa invece è la strada che porta sul Grimsel Sentite i motori che Che scalpitano Tutti questi bei cavalli Sì sì ho fatto le foto Saluta Non si può fumarci una sigaretta Vai Carletto allora No no Ah sei ancora in diretta No no fammi vedere fumare Siamo in diretta Ma sei in distanza Questo va su YouTube Questo Il pezzo dove fumo taglialo Che è diseducativo Va bene d'accordo Taglieremo tutto il video praticamente Grazie Ragazzi siamo sul Grimsel Bass Attenzione Attenzione Ecco Carlo Che ciuccia dalla sua tannica incorporata Come i cammelli Guardate qui Questo è l'arco artificiale Non so se si riesce a vedere Eccola qui E niente ragazzi Il tempo è meravigliosamente bello Siamo qui con i ragazzi del gruppo gym Che sono venuti a fare il giro Eccoli qua Ma forse mi festano Allora adesso ci fermeremo Allora adesso ci fermeremo La moto arrugginita Per fare un paio di foto E nulla E nulla Poi ripartiremo Ragazzi guardate che strade Da paura guardate qua Ah cavolo Bellissimo E' nato lo sborone Con quelle cazzo di valigia Daniele ma che cazzo Te le porti a fare Smonta le figa Bene ragazzi Stiamo percorrendo la strada Del passo Fiorca Mamma mia Da questa strada Cioè a sbalzo Praticamente Praticamente Eccoci qua Siamo sul Fiorca Pass Come potete vedere Dalle immagini Il meteo E' bellissimo E' proprio uno spettacolo Della natura Veramente è stupendo Abbiamo anche Stranieri che fanno La stessa cosa Che sto facendo io Quindi Condividere questo momento E spero che si vedrà a strada Anche la telecamera Così potete vedere La bellezza Di questo posto Guardate Qui c'è La cornice del Grand Tour Dove si fanno le foto C'è un percorso Proprio della Grand Tour C'è anche un'applicazione Che si può scaricare Per fare tutte le tappe Della strada del Grand Tour Questo purtroppo E' il ghiacciaio Che si è ritirato A vista d'occhio E niente Siamo qua ragazzi Per fare un'applicazione Inverte Che si chiama E' questo E' il gio Un'applicazione Per fare un'applicazione Un'applicazione E' il gio Un'applicazione E' il sottotitolo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.